I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. Questa settimana è la settimana di Pasqua e noi vi proponiamo il bilancio della stagione teatrale di Cortona con l'ultimo botto, la pièce con Sergio Castellitto e poi i consigli per il cinema di Luca Bindi con una sorpresa che riguarda la nostra emittente. Zorro, un'eremita sul marciapiede, un testo di Margaret Mazzantini scritto appositamente per il ritorno a teatro del marito, Sergio Castellitto. Nella pièce Sergio Castellitto interpreta in un monologo un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e riflette sulle scelte che lo hanno portato a vivere per strada e sul significato stesso della vita e lo fa con ironia, con simpatia e anche con un filosofare allegro ed indefesso sul sale della vita. Uno splendido Sergio Castellitto lungamente applaudito al teatro Signorelli di Cortona dove si è esibito in doppio appuntamento. Allora, con Zorro di Sergio Castellitto si chiude una stagione che è stata importante perché costellata di grandi nomi, Assessore. Assolutamente, siamo molto felici anche dell'andamento stesso della risposta del pubblico. Abbiamo avuto pressoché il tutto esaurito sempre e quest'anno gli abbonati credo possano essere veramente soddisfatti per il livello proposto. Mi dispiace unicamente per il forfè di Stefano Accorsi ma, d'altra parte, per causa di forza maggiore dovute ad una malattia. Poi non siamo riusciti a recuperarli ma diciamo che per il prossimo anno ci aspettiamo altrettanto. Qual è stato secondo lei il momento più importante di questa stagione? Perché ricordiamo non solo teatro ma anche tanta musica. Sì, il concerto dell'Hort credo dal punto di vista musicale sia stato veramente il massimo e poi devo ricordare anche il nostro concerto con la Choro Orchestra che per prima volta è stata inserita all'interno della stagione. È stata una sperimentazione quest'anno con solo due date durante tutta la stagione ma che comunque hanno fatto apprezzare al pubblico la grande musica con dei grandissimi interpreti. Quindi credo che tutta la stagione teatrale e questi due appuntamenti possano aver segnato un'evoluzione, diciamo così, per Cortona. Visto che ci siamo, le chiedo anche invece come sarà la stagione estiva. Che cosa ci dobbiamo aspettare? La stagione estiva sarà costellata di tantissimi eventi. Molti di essi saranno legati ovviamente a Signorelli 500 che prenderà il via il 23 giugno. Però ci saranno molte iniziative anche all'aperto. Pensiamo appunto di riportare la piazza a vivere e quindi ci stiamo preparando. Certamente, Signorelli 500, è stato un grandissimo sforzo ed è per questo che dobbiamo, diciamo, celebrare degnamente questa grandissima figura di Cortona. Speriamo che il turismo possa arrivare in massa. Le premesse ci sono tutte. Stiamo avendo già grandissimo interesse a livello proprio nazionale e internazionale per questa mostra. Ma sicuramente, insomma, cercheremo di differenziare per quanto possibile l'offerta. Quindi anche eventi per i giovani, eventi in piazza, come dicevo prima, i grandi festival che tornano tutti, nonostante ecco lo sforzo di cui parlavo di Signorelli, abbiamo il ritorno di tutti i festival storici. Ciao amici. Allora, in sala in questa settimana tre film italiani degni dimensione. Innanzitutto l'atteso ritorno di Gabriele Salvatores, che in realtà si dovrebbe definire il ritorno di Casanova come il titolo della sua pellicola, liberamente ispirata a quell'importante e omonimo testo letterario del 1918 di Arthur Schnitzler. Il film parla però in qualche modo, riflette sullo scorrere inesorabile del tempo e del cinema come specchio, come possibile, anche se non immediato, strumento di liberazione. Infatti viene messa in scena la crisi di un regista, qui interpretato da Tony Servillo, non più giovane, che sul set della sua ultima fatica si è anche innamorato di una ragazza, molto più giovane di lui, che lo ricambia, ma che non risolve la sua crisi perché gli accentua proprio il senso del distacco da quell'età. Sullo sfondo, in continuo specchio, è il montaggio del suo ultimo film, di questo regista, appunto Tony Servillo, che è Il ritorno di Casanova, che parla della crisi, anche in questo caso, e del tempo che passa per l'amatore più conosciuto e più mitizzato della storia, che è il Giacomo Casanova, qui interpretato in questo film nel film da Fabrizio Bentivoglio. La pellicola, in generale, parla probabilmente della crisi e della stanchezza dello stesso regista Salvatores, con un'anima in qualche modo divisa in due, quella del reale, che vediamo sempre in bianco e nero, e quella del film nel film, che parla di Casanova, appunto, e che invece è a colori, e che forse è anche la parte meglio riuscita. Sullo scorrere del tempo è anche la seconda opera di finzione di Walter Veltroni, un film che si intitola Quando, tratta dal suo omonimo romanzo, e interpretato da Neri Marco Re, personaggio che si risveglia quasi metaforicamente, diciamo dopo 40 anni, da un coma che lo ha colpito nel 1984, e troverà le persone, il mondo, la politica del tutto cambiate. Il film è un film pacato, poco ribelle forse, in cui la speranza di poter recuperare i ideali, i valori, comunque resta nel protagonista. Il terzo film che segnaliamo è l'opera prima, invece, di Beppe Fiorello, decisamente degna di nota perché ha il coraggio di affrontare con delicatezza una storia d'amore tra due adolescenti, Giorgio e Tony Antonio, qui nel film Gianni e Nino, e di raccontare l'omofobia, l'omertà che nella Sicilia dei primi anni Ottanta divide uccisi, mano nella mano, in quella che la storia ricorda come il delitto di Giarre. Il titolo di questo bel film, che affronta in definitiva la difficoltà di crescere di due adolescenti in un'epoca e in una cultura patriarcale, e anche dell'omofobia, che dopo quasi 40 anni comunque rende questo film molto attuale, questo titolo appunto è tratto da una bellissima canzone omonima di Franco Battiato in dialetto siciliano. Vi lascio quindi e vi auguro buona Pasqua, buona settimana, a presto. Ciao a tutti. E la nostra emittente, venerdì, sabato, domenica e lunedì, vi regala Grandi Film, davvero una proposta interessante per trascorrere le festività pasquali insieme. Seguiteci da venerdì a lunedì, il Grande Cinema con Teletruria. Ed è tutto anche per questa settimana, arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.